Il programma tv Uomini e donne è andato in vacanza. Il 24 maggio 2024 è stata trasmessa l'ultima puntata di questa ultima stagione del dating show condotto da Maria De Filippi. Si ripartirà come sempre a settembre. Ma il pubblico affezionatissimo del programma non si annoia di certo. Di poche ore fa l'annuncio la storica coppia nata negli studi Helios è scoppiata. I due hanno deciso insieme di metterci un punto e lo hanno fatto sapere ai fan con un post social. La stagione di Uomini e donne ha regalato moltissime emozioni al pubblico. Nuovi amori sono nati e altri invece non sono mai sbocciati. È andata decisamente male a Ida Platano. Divisa tra Mario Cusitore e Pierpalo Siano, alla fine, ha deciso di abbandonare il trono senza fare una scelta. Pioggia di petali invece per Daniele Paudice e Gaia Gigli, Cristian Forti e Valentina Pesaresi, Brando Efrician e Raffaella Scuotto, senza parlare di quello che è successo nel parterre tra dame e cavalieri. Alessio Corvino e Lavinia Mauro si sono lasciati. I due erano usciti insieme dal programma di Maria De Filippi circa un anno fa. Da qualche settimana si parlava di una crisi. Voci che hanno trovato conferma in un annuncio congiunto di stamani da parte dei due. Lo stesso messaggio postato da entrambi sui rispettivi profili social. Questo il testo. A volte abbiamo bisogno del nostro tempo, del nostro spazio. Delle volte abbiamo bisogno di metabolizzare cambiamenti e di riflettere senza intromissioni. Mettere noi stessi al primo posto, non per egoismo, ma per necessità. Non vengono specificate meglio le motivazioni. Si parla di un periodo complesso. Alessio e Lavinia quindi hanno deciso di proseguire ognuno per la propria strada. Questo però non cambia il bene e la stima che c'è tra di noi. Lavinia e Alessio erano dati tra i possibili concorrenti della prossima edizione di Temptation Island in onda da giugno, anche se la data non è ancora nota. Ma dopo questi sviluppi sembra difficile vederli partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia.